Torna l'incubo per il mondo ora foretino. Un furgone portavalori della Securpol con circa 50 kg di oro si è fermato attorno alle 16.30 di lunedì davanti alla Italy Impianti di Badialpino. Uno degli addetti sarebbe sceso per entrare all'interno della ditta. Quando è tornato, il mezzo era però sparito insieme al collega. In pochi minuti è scattato l'allarme. Si sono messi in azione i carabinieri coordinati dal capitano De Martis con l'ausilio anche della Polizia Stradale di Battifolle. Attorno alle 17.45, poco più di un'ora dopo, il furgone è stato ritrovato vicino all'area di sosta Badialpino-Ovest dell'autostrada nei pressi della strada provinciale 21 di Civitella. Il mezzo era stato completamente ripulito. Del loro non c'era più traccia. Un bottino che si aggira attorno ai 2 milioni di euro. Un colpo, probabilmente studiato da tempo, scattato durante il giro del furgone presso alcune ditte orafe aretine. L'attenzione dei malviventi sembra essersi spostata dunque dalle aziende, che ormai sono iper vigilate da sofisticati mezzi di sicurezza, ad un'altra fase, quella appunto dei viaggi dei furgoni portavalori.